Parliamo del campione, qual è il campione di cui avete trattato? È una ricerca complessa e non abbiamo fatto semplicemente un questionario, abbiamo fatto tre operazioni. La prima, alcune interviste ai testimoni privilegiati, adulti, per capire la loro visione del problema giovanile. Poi un questionario su 250 giovani tra 15 e 25 anni per capire il loro punto di vista. Dopodiché alcuni focus group per confrontarci su quello che erano i primi risultati. Quali sono i dati salienti? Allora, il primo dato che emerge è questo. Dal punto di vista degli adulti i giovani rappresentano un problema per la città. Dal punto di vista invece dei giovani, i giovani rappresentano il futuro della città, la soluzione dei problemi. I giovani sono molto più consapevoli che la situazione è difficile di quello che noi pensiamo, ma sono anche volenterosi di affrontarla, perché loro sanno che i pericoli, le paure di oggi non sono altro che le sfide di domani che loro non vedono l'ora di affrontare. E per questo vogliono una giusta informazione, una giusta informazione su quello che sta succedendo. Vogliono capire di più di quello che sta succedendo e, tutto sommato, sono anche pronti ad andare fuori per formarsi meglio, per tornare, per dare il loro contributo alla città. Questo tipo di ricerche parte dal presupposto che i risultati sono dei punti di partenza per modificare e migliorare l'azione. Quali sono i punti di partenza che avete consegnato voi alla Fondazione Merloni? No, il punto di partenza è questo. Quali sono i valori su cui si può contare dal punto di vista dei giovani per rilanciare lo sviluppo a Fabriano? Questo era il punto di partenza. E devo dire che esce fuori, prima di tutto, che i giovani hanno un forte valore dell'amicizia, quindi del gruppo fra di loro, molto più che per esempio della competizione. Sono più collaborativi che non competitivi. E questo è un dato, da certi punti di vista, importante che va incanalato nel verso giusto. E la cosa anche importante è che hanno più etica del lavoro che non i loro genitori. Ricordiamoci, i loro genitori sono la generazione dei quarantenni, che, come loro dicono testualmente, hanno trovato la pappa fatta per quello che riguarda il lavoro. Loro si sentono più simili ai loro nonni, che il lavoro se lo devono conquistare, costruire, al limite anche cambiare, modificare, implementare nel corso del tempo. Questo loro sono più consapevoli che non i loro genitori quarantenni.